buongiorno mi chiamo marco marinello sono direttore generale di promission srl siamo un'azienda specializzata nella costruzione di macchinari e impianti per la miscelazione di materie plastiche e venici in polvere promixon è nata nel 2013 oggi nel 2016 a fine 2016 conta uno staff totale di 50 persone tutte altamente specializzate qui col solo e unico scopo di consegnarvi i migliori impianti iniziazione oggi presenti sul mercato la meta di promixon è una costante crescita insieme ai nostri clienti otteniamo questo mediante la consegna di impianti di miscelazione altamente performanti e servizi che superano le aspettative dei nostri clienti promixon per i propri clienti studia soluzioni ad hoc a ogni tipo di lavoro che ci viene richiesto logicamente sono lavori specifici per la miscelazione delle materie plastiche venici in polvere non abbiamo uno standard o una soluzione imposta per i nostri clienti abbiamo un enorme bagaglio tecnico di conoscenze e le mettiamo a frutto per risolvere le loro specifiche esigenze la nostra attitudine con i clienti è sempre ascoltare in primis quello che loro richiedono dopodiché elaboriamo le nostre soluzioni in questo processo di diciamo di interazione con il cliente mettiamo a disposizione le nostre risorse tutto il nostro tempo la nostra passione diciamo che la caratteristica che arriva di più ai nostri clienti che vogliamo far arrivare i più nostri clienti un'attitudine onesta sincera propositiva soprattutto per dargli semplicemente dei risultati il mercato di promix nel mondo oltre al mercato nazionale consegniamo i nostri impianti dal canada agli stati uniti all'america centrale sud america tutta l'europa completamente l'asia la russia della turchia medio oriente tutta la cina l'australia addirittura anche nuova zelanda per seguire i nostri clienti il meglio cerchiamo di tenere informati il più possibile mediante la generazione di bollettini tecnici video di prodotto ogni volta che studiamo una soluzione particolare per un cliente la condividiamo con tutti gli altri clienti perché questo è un patrimonio della promixon in ogni mercato abbiamo un agente specializzato noi selezioniamo agenti non solamente sotto un profilo commerciale ma anche dal punto di vista tecnico in modo tale che diano l'assistenza tecnica ai nostri clienti per supportare anche l'assistenza tecnica in tutto il mondo ai clienti abbiamo anche instaurato un dipartimento di service qui in promixon che conta uno staff di otto persone quattro dei quali sono tecnici che viaggiano in tutto il mondo e questo sarà oggetto anche di futura crescita qui in promixon e di sviluppo perché vogliamo avere un abbondanza di disponibilità di tecnici per il servizio tecnico tempestivo logicamente i clienti nel mondo vogliono essere raggiunti nel più breve tempo possibile vogliono essere assistiti nel più breve tempo possibile con risposte professionali a livello di pre vendita con i clienti in tutto il mondo li invitiamo a fare delle prove qui da noi infatti quest'anno abbiamo lanciato anche la nostra sala prove dove praticamente da sei mesi a questa parte abbiamo ricevuto ogni settimana una o due visite di clienti per provare i nostri prodotti e questo generalizzato ha generato logicamente delle ottime vendite e quindi ulteriore presenza ulteriore raggiungimento dei clienti e l'espansione della promixon sul mercato mondiale business e fiducia e la fiducia noi la raggiungiamo con i clienti mantenendo sempre quello che promettiamo e concordiamo con loro infatti la policy numero uno qui in promixon conosciuta tutto il mio staff e i miei laboratori è consegnare sempre quello che viene promesso e lì non abbiamo compromessi questo si traduce in prodotti che escono per tempo che funzionano secondo le specifiche del cliente concorrate con lui e tante volte devo dire parecchie volte orgogliosamente superano anche le loro aspettative la fiducia è anche la capacità di porsi con il cliente in un modo onesto sincero che tu sia giusto tu sia sbagliato lo devi sempre ammettere e in modo tale da raggiungere il massimo livello di comprensione con il cliente sempre tramite una comunicazione aperta e leale e corretta la professionalità per me è la costante ricerca la specializzazione la cura nel minimo dettaglio impegnarsi su quello specifico prodotto come nel nostro caso un impianto di miscelazione senza compromessi perché se sei un professionista sei totalmente dedicato a quel particolare prodotto e noi abbiamo scelto di essere totalmente completamente dedicati senza compromessi alla miscelazione di materie plastiche e venici in polvere per Promixon la concorrenza è uno stimolo è fonte di ispirazione e soprattutto è l'asticella che si sposta sempre più in alto di fronte ai nostri clienti per dargli sempre soluzioni migliori e questo si sviluppa nel libero mercato il mercato è libero lo dice la parola stessa quindi il cliente ha la propria autodeterminazione a scegliere da chi affidarsi per risolvere i suoi problemi di miscelazione e Promixon cerca di essere il punto di riferimento per il cliente e per la concorrenza in modo tale che si inneschi questo gioco di miglioramento del prodotto e di sviluppo nel mercato senza questo penso che non si parlerebbe né di libero mercato e neanche di sviluppo di prodotto un'azienda di successo è un'azienda che viene riconosciuta nel mercato come il leader nel suo settore l'ideale, la scena ideale sarebbe quando un cliente pensa a chi ha un problema di miscelazione chi è che contatto si accende la lampadina e pensa alla Promixon questo già determina il tuo successo nel mercato, la presenza, l'identificazione su quello specifico prodotto del tuo nome, del tuo brand, della tua azienda questo lo raggiungi tramite il fatto che tutti i miei collaboratori abbiano successo siano contenti di venire sul posto di lavoro abbiano un'autodeterminazione, iniziativa e sfornino sempre le nuove soluzioni in modo tale da creare quella dinamica che ci porta proprio a quel successo che ho appena descritto le nostre garanzie sono la costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche dei prodotti, delle materie prime utilizzate soprattutto della fabbricazione dei singoli componenti dove ce ne prendiamo cura pienamente questo si traduce praticamente in una longevità dei nostri impianti estrema abbiamo già un feedback sul mercato dove alcuni particolari che normalmente dovrebbero avere una usura di un anno o due anni sono già tre anni che funzionano, sono perfettamente integri come se fossero nuovi questo per noi è motivo di orgoglio quindi la garanzia è soprattutto la longevità degli impianti e la loro performance alta nel tempo che si mantiene alta nel tempo senza che si riduca dopo qualche anno di lavoro i traguardi raggiunti da Promixon fino al 2016 sono il raddoppio del fatturato rispetto al 2015 un totale di 50 staff, tutti addestrati e professionalmente capaci e molto dedicati più un totale di 40 persone impiegate sui nostri fornitori esterni per la produzione dei nostri prodotti full time solo per noi la presenza nei mercati abbiamo anche recentemente fatto la fiera più importante nel nostro settore, la CAPO 2016 dove abbiamo avuto un totale di 520 visitatori e più di 150 richieste di offerte e più e inoltre anche dei contratti firmati direttamente in fiera questo sta a suggerire praticamente che ormai Promix è una realtà viva, vivace soprattutto nel mercato e innovativa che viene apprezzata dai nostri clienti sono molto fiero dei risultati raggiunti qui in Promixon in questi tre anni e mezzo soprattutto dei 220 impianti in miscelazione consegnati in Italia e nel mondo che registrano il 100% di soddisfazione da parte dei nostri clienti grazie per la vostra attenzione e il tempo che mi avete dedicato oggi ci sentiamo presto e la Promixon è stata fatta per voi e sarà qui sempre per voi ciao 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 ciao